Eccomi qua, sono quasi le tre, ho mandato via un po' di foto, ti ho mandato i filmati, l'ultimo l'ho postato su Facebook, per fare un po' di pubblicità. Io ti voglio un bene dell'anima, tu me ne vuoi, non smetterai mai di essere mia amica, vero? Lo so che te lo dico continuamente, ma sai, ho voglia di sentirmelo dire, non smettere mai e di essere mia amica e di volermi bene. E ho proprio intenzione di 12 mesi all'anno passarne qualcuno lì a Belinzaro, sempre se tu mi vuoi vicino. Non so perché ma mi sto commuovendo, forse perché, non lo so. Tanto non avrei preoccupazioni per Princess perché sarebbe qui da mia sorella. Ora è quasi quasi portarla su là, a Belinzaro. Voglio, voglio che tu sia famosa. E devo vedere quella libreria che mi hanno detto, in via 20 Settembre al numero 63. Prima te li apponerò e poi ci andrò di persona a vedere quanti soldi vogliono. E tu scegnerai i quadri migliori che hai, quelli che ti piacciono di più e magari ne farai qualcuno in più e poi non ti lascerò, quindi aggiuntarai logicamente. Prenderò di nuovo Simone oppure la Cristina. Una domenica varremo là. Se cercherò un albergo qui vicino. Sto a lei qua un po' di giorni. Così vedrai Padova assieme a me. Ciao, mia dolcessima amica. Non smettere mai di volermi bene. E non smettere mai di essere mia amica. Ciao, Cristina. Ci vediamo nei prossimi.